Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato al Seiko 5. Seiko 5, la storica famiglia di modelli di casa Seiko che sin dagli anni 60 rappresenta l'entry level della casa stessa, cioè quegli orologi che avevano il compito e che hanno il compito di essere indossati dalle persone che si avvicinano all'orologeria meccanica, automatica, oggi, e solamente quello che c'era è meccanica una volta, perché gli anni 60 erano solo meccanici. Insomma, lo scalino più basso è rappresentato da questi Seiko 5, che però, pur essendo lo scalino più basso, non significa che la qualità è scarsa. Ora, c'è anche da fare un distinguo, sui classici Seiko 5 che conosciamo, che eravamo abituati a conoscere, quelli con il 7S26 entry level a tutto spiano, che costavano 100-150 euro, e che si trovano ancora sul mercato parallelo, sui marketplace, a quella cifra lì, 160-190 euro, si trovano ancora quelli vecchi, però che non sono più a catalogo ufficialmente presso i rivenditori ufficiali. Se voi andate in un negozio, un rivenditore ufficiale, e volete ordinare un Seiko 5 di quelli vecchi, non lo potete ordinare, li potete comprare sul mercato parallelo, ci sono sempre. Però, questa nuova serie di Seiko 5 Sport, che è già da un po' che ormai è qualche anno, due, tre anni, quattro forse, che è sul mercato, rappresenta un passo superiore, un passo avanti, diciamo. Soprattutto per finiture, per qualità dei materiali, e anche per il calibro, che il 4NR36 è un pochino, un passo avanti rispetto al 7S26, diciamo così. E con questo nuovo modello che vado a presentare oggi, va a riprendere lo stile, le linee di un orologio che è ancora disponibile, che è il SNX-S. Più o meno le forme sono come queste, anche se non propriamente con queste finiture, come vedremo. C'è da dire che i Seiko 5 stanno diventando veramente numerosi. Eravamo abituati a vedere quelli vecchi, che c'era un pur purrì di scelta, quasi irrazionale, da tante referenze che esistevano, esistono, che adesso piano piano stanno arrivando anche con questi Seiko 5 Sport. Ora abbiamo quelli sportivi con la ghiera esterna, quelli sportivi senza ghiera, i Field, il GMT, tutta una serie di orologi Seiko 5, che vanno piano piano a riempire il catalogo e a aumentare la scelta. E mancavano proprio questi qua, sportivi semplici da 36-37 mm, come siamo abituati a vederli, per andare a chiudere il cerchio. Chiudere il cerchio per modo di dire, perché aspettiamoci poi altre uscite di questo tenore, e benvengano, benvengano. L'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico Giacomo, che è titolare della gioielleria Pasquale di Domenici di Viareggio, che parte, un ufficiale del canale, e che mi mette a disposizione gli orologi che voglio recensire. E a voi offre un trattamento di favore, quindi anche sui Seiko 5, che tanto tanto si trovano anche su Amazon, per dire, fate prima una telefonata all'amico Giacomo e sentite se vi offre qualcosina di meglio, e vedrete che non rimarrete delusi. Ve lo dico io questo. Ora, prima di guardare l'orologio simpaticamente, vi mostro l'orologio del giorno, che è questo simpatico. Omega Seamaster 300 Professional, 300 metri di impermeabilità, come dice il nome, quadrante in ossido di zirconio, ghiera in ceramica, tutto chi più ne ha più ne metta, valvola per l'elio, orologio che d'estate fa il suo, come si vuole dire. Lo indosso, vado al mare, lo porto al mare, lui, sì, al mare ci vado con questo, ci vado col Mako, ci vado con Longin, ci vado con il Loris, non mi faccio problemi a portare gli orologi al mare, devono vivere anche loro, sono fatti per questo, e ce li porto. Chiaramente la valvola dell'elio a me non mi serve a niente, però c'è, e facciamo bella figura. Detto questo, giriamo la camera, diamo uno sguardo al Seiko 5 in questione, e poi ci vediamo qua, per le considerazioni personali. Diamo il via alla panoramica, cercando di comprendere le dimensioni generali. Diametro cassa 37.6 mm, spessore 12.5 mm, ingombro trasversale al polso 44.3 mm, e interasseanza da 18 mm. Misure contenute che ben si addicono alla tipologia di orologio, al polso risulta apparire compatto e armonioso, un perfetto equilibrio tra sportività e sapore vintage di altri tempi. L'unico dato fuorviante sulla carta è lo spessore di 12.5 mm, che in senso assoluto, per un solo tempo di piccole dimensioni, può suonare come fuori luogo, forse eccessivo. Nella realtà dei fatti, viene bene camuffato dall'intelligente gioco di smussature, che pone in evidenza un sottile lato Carrur. Ciò che infatti percepisce la vista è l'altezza di circa 5 mm, rappresentata dalla parte satinata, mentre le due smussature lucide vanno a rastremare una verso l'alto, e l'altra verso il fondello, anch'esso nascosto alla percezione visiva. Inutile nascondere che lo spessore c'è, ma al colpo d'occhio è tutto sommato accettabile. Occorre sottolineare che le finiture di questi nuovi Seiko 5 sono di qualità superiore rispetto ai vecchi modelli. Sia le parti spazzolate che quelle lucide appaiono ben eseguite e di livello superiore, risulta quasi difficile accettare il fatto che si tratti di un Seiko 5, dell'orologio entry level di casa Seiko, e questo non può essere che un valore aggiunto. A livello di design, ci troviamo di fronte ad una cassa cuscino classica, che prevede due sinuosi archi allungati che si chiudono a formare le anse, il tutto arricchito dai biselli precedentemente menzionati. Occorre poi sottolineare un altro elemento classico dei Seiko 5, ossia la corona a pressione incassata e protetta ad ore 4 circa. Ottima soluzione che la mette al riparo dagli urti e che la rende poco fastidiosa sul dorso della mano. Per conto risulta un poco macchinosa nell'estrazione, ma è uno scotto che si paga sempre volentieri. Fa piacere poi constatare che l'impermeabilità è di ben 10 atmosfere, dato ormai standard per questi nuovi Seiko 5 Sports, ma che può sembrare sorprendente se collegato all'aspetto civile e metropolitano di questo modello. Insomma, siamo abituati a vedere i vecchi Seiko 5 basicamente water-resistant e quando vediamo un aspetto simile ci sembra strano il contrario. Il lato B vede il solito fondello a vite trasparente, tutto sommato ben dimensionato per evitare l'effetto ciambella, ma poco interessante per ciò che mette in mostra al di sotto. Il classico Seiko 4R36, provvisto di fermo macchina e carica manuale e opzionale. Il movimento base degli Oroji Entry Level di Seiko a catalogo oggi. Ottimo meccanismo base che però non merita di essere messo in mostra attraverso un trasparente, solito discorso trito e ritrito che poi lascia il tempo che trova. Fortunatamente ciò che vediamo al polso è il lato A dell'orologio e questo quadrante ha tutte le carte in regola per poter essere definito indossabile con piacere. Un'ottima leggibilità che è la conseguenza del contrasto tra fondo ed indici. Un blu notte piano, opaco, lineare che in alcune condizioni di luce si schiarisce leggermente. Niente di particolarmente sofisticato ma che nella sua semplicità risulta essere sia funzionale alla lettura che apprezzabile alla vista. Interessante poi il fatto che gli indici siano applicati in rilievo. Una tridimensionalità molto accentuata che viene poi replicata sul rio inclinato a 45 gradi. Quest'ultimo gode inoltre di una fine lavorazione concentrica percepibile anche ad occhio nudo. Un insieme di elementi in stile vintage che ricorda molto gli anni 70. Lancette a bastone comprese. Ogni elemento vede una struttura rodeata a cornice del Lumibright che in questo caso si presenta leggermente tendente al crema. Materiale luminescente proprietario che in assenza di luce mette in evidenza tutto ciò che serve per una corretta lettura dell'orario per un lungo periodo. D'altronde Seiko è rinomata per la qualità della propria luminescenza. Ciò che in definitiva prezzo del quadrante è il globale connubio tra i dettagli sportivi e l'atmosfera retro, la modernità e la tradizione. La sfera secondi rossa conferisce dinamicità, il logo Seiko applicato è al passo con i tempi e la finestra Day-Date perpetua la tradizione della famiglia di modelli. Il tutto ben amalgamato e senza apparire come fuori luogo. Nota a margine, il giorno del mese compare sia in inglese che tramite ideogrammi giapponesi, soluzione che mi trovo ad accordo in quanto gli conferisce una precisa identità e rende giustizia a suo essere made in Japan. Non rimane che disquisire a riguardo del bracciale è ormai un dato di fatto che sui recenti sports le cose sono migliorate tecnicamente parlando ci sono tutte le caratteristiche necessarie per definirlo di buona qualità eccezione fatta per la cerniera della Deployant infatti il bracciale è in solido acciaio e i finali sono pieni mentre la cerniera è in sottile lamierino lucido basterebbe così poco per renderlo perfetto e invece c'è ancora questo piccolo minus anche perché la scattoletta non è per nulla fatta male presenta anche un accenno di spazzolatura e un paio di biselli decorativi rimane il dubbio sui due soli forellini di regolazione corrisponde una circa mezza maglia ed è quindi possibile trovare la misura adatta al proprio polso ma in caso di ulteriore modifica nel tempo si ha poca possibilità di escursione possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali è promosso l'orologio certo che è promosso come fa a non essere promosso un seco 5 deve essere promosso deve per modo di dire punto debole che non ho detto durante la recensione e che mi accingo a dire ora è il vetro hardlex ossia un tipo di vetro minerale magari un pochino più pregiato rispetto a quello minerale semplice ma sempre minerale insomma non è vetro zaffero e io lo considero un punto debole punto debole che però non mi impedisce di possedere io stesso orologico il vetro minerale vedi il mio villervetta dinawind quindi non può essere considerato un impedimento all'acquisto poi l'altro punto debole è quello della cernierina qua il lamierino ed è il fatto che per sistemare la lunghezza del bracciale ci sono solamente due forellini un po' difficile sistemarlo però probabilmente ci si riesce detto questo il resto sono tutti punti positivi dai c'è poco da fare l'aspetto di questo orologio è accattivante ben fatto le finiture sono di prim'ordine mi sbilancio e dico che le finiture sono di prim'ordine dell'acciaio della cassa le satinature e le lucidature sono di prim'ordine e ragazzi provate a contestarmelo e niente mi piace poi il fatto che ci sia il datario in giapponese lo trovo sensato lo trovo sensato e lo trovo un valore aggiunto che va a confermare la giapponesità dell'orologio mi piace poi chiaramente non lo utilizzerei mai in giapponese perché non li so riconoscere gli ideogrammi però ho piacere che ci siano poi il resto al polso sta bene l'avete visto anche sul mio polso del 19 pur essendo un 37 mm sta bene riempie bene il polso e sta bene anche su altri polsi un pochino più piccoli dai l'orologio da tutti i giorni con i 100 metri di impermeabilità i vecchi 6x5 quelli con il 7s26 avevano avevano erano appena water resistant questi qua sport nuovi tutti i 100 metri quindi è possibile utilizzarlo veramente come everyday watch al di là del fatto che il vetro è minerale ma voglio dire è bene che si rovinino questi orologi lo pagate poco meno di 400 e è bene che si rovinino dovete usarlo fino alla fine dei suoi giorni che sarà mai perché se lo fate revisionare sarà mai e ve lo indossate ve lo portate avanti come sono giunti ai giorni nostri quei 6x5 degli anni 60 che a volte vediamo nei vostri video ogni tanto spuntano fuori quei 6x5 vintage e fa sempre piacere scendere alla lacrimuccia lo vedi lì dice ci avevano già negli anni 60 questi 6x5 tanta roba anni 60 anni 70 e quindi è uno di quelli poi è chiaro che gli orologi entry level magari invece fanno la fine di essere comprati tenuti 6 mesi rivenduti preso quell'altro ci sta anche questa questa possibilità è un'opzione però se uno vuol tenere un 6x5 a tenere è proprio questo poi dopo magari vi pentirete quando non li troverete più a catalogo mai i 6x5 non scompaiono mai vanno fuori produzione mai vanno fuori produzione ci sono dei modelli che è un po' più difficile trovare magari ma ci sono esiste 6x5 c'è come si suol dire buongi ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto io ve l'ho messo lì sul vassoio voi dovete scegliere se vi piace se non vi piace se volete spendere 5 soldi se li volete spendere in altro ma come per tutti gli orologi io sono il lettore dell'orologio lo porto lo leggo vi faccio vedere le fotografie le macro le varie cose e poi siete voi che dovete scegliere vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 Grazie a tutti.